Sul Monacarpinone, l'associazione Insieme per il Centro Abruzzo chiede aiuto al FAI per salvare la Transiberiana d'Italia. A dirlo è lo stesso presidente dell'associazione, Antonio Ruffini, all'indomani dell'assemblea che si è riunita a Rivisondoli per cercare di salvare la storica tratta ferroviaria. L'associazione culturale Insieme per il Centro Abruzzo, sottolinea Ruffini nel suo resoconto dell'incontro, pur condividendo tutte le iniziative delle altre associazioni presenti, propone di interessare il FAI, il Fondo Ambiente Italia, per cercare di farla inserire tra i beni del patrimonio ambientale nazionale. Non è possibile che un tale capolavoro dell'ingegno italiano vada perso solo per l'ottusità degli attuali politici e dei dirigenti di RFI, in primis l'amministratore delegato Moretti. Non va per il sottile il presidente che ribadisce come sia necessario sostenere il progetto della Sangritana e di tutti i soggetti che negli ultimi anni hanno cercato di trovare una collocazione turistica alla Sulmona Carpinone per cercare di far crescere l'offerta turistica del Centro Abruzzo. Occorre sostenere la società sangritana, dice Ruffini, e gli altri soggetti imprenditoriali che si sono dichiarati disponibili a rilevare e a gestire la ferrovia sul Mona Carpinone per ridare una speranza alla popolazione del Centro Abruzzo. Gran parte della colpa del mancato salvataggio della tratta ferroviaria in questione, secondo il presidente dell'associazione, è da attribuire alla miopia della politica nel nostro territorio, che non è stata capace di dirottare i fondi a disposizione per sostenere i programmi adeguati alla rinascita della linea ferrata, più in quota dopo quella del Brennero. Le risorse economiche impegnate per lo sviluppo del territorio e la sua salvaguardia e valorizzazione, in calza Ruffini, vengono utilizzate per altri scopi, così come è stato più volte ribadito durante i lavori dell'Assemblea. Il grido di protesta e di dolore che, se sollevato dall'Assemblea riunita alle terme alte di Rivisondoli, conclude la nota, merita tutta l'attenzione possibile dei nostri politici locali e regionali, affinché si facciano sentire a Roma. Non è infatti con i numeri che si devono prendere certe decisioni, perché, diversamente, non avremo bisogno della politica, ma sarebbero sufficienti dei semplici ragionieri.